E' stato il coordinatore regionale, nonché sottosegretario all'agricoltura Luigi Deramo, a ufficializzare in una conferenza stampa a pescare i 25 nuovi ingressi nella Lega. Tre nomi, Mimos Rurex, assessore regionale e altri amministratori provenienti non solo dall'esperienza del partito, cambiamo. Alla presenza di quattro segretari provinciali della Lega, Deramo ha parlato di un partito che si rafforza sul e per il territorio. Allora, innanzitutto sono particolarmente felice di fare questa conferenza stampa questa mattina perché ancora una volta si dimostra quanto sia in crescita la Lega nella regione Abruzzo. Questa mattina presentiamo 25 persone che aderiscono alla Lega. A fianco a me vedete l'ex assessore regionale Mimos Rurex, che è un po' il rappresentante di questa realtà, di questa comunità, che è sostanzialmente composta da ex amministratori, da professionisti su tutte e quattro le province della nostra regione. Sono tutte persone, prosegue Deramo, donne e uomini di esperienza, che sicuramente daranno un contributo fattivo in termini di idee e sviluppo dell'Abruzzo. Verso il prossimo voto a Teramo, città più importante, anche in altri centri del nostro Abruzzo. Chiaramente l'attenzione anche mediatica è concentrata principalmente sui due comuni sopra 15.000 abitanti, quindi Silvi Marina, dove c'è il sindaco uscente della Lega, Andrea Scordella, che voglio ricordare è stato il primo sindaco della Lega eletto nella nostra regione. Credo che abbia ben amministrato, i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Su Teramo abbiamo chiuso da qualche giorno la individuazione del candidato sindaco, è un civico rispetto a quale il centrodestra ha deciso in maniera unita e compatta di convergere. Intanto Mimus Rurra spiega la scelta di entrare nella Lega. Guardate, dalla politica estera all'immigrazione, al quale sono particolarmente sensibile, alla nostra regione, ad infrastrutturare la nostra regione, abbassare, vogliamo dare un contributo. Noi abbiamo pensato che il luogo, che il partito, che ci può dare la possibilità di dire, di contribuire. Sia, conclude Sruhr, la Lega.